Musica Poco dopo mezzogiorno, il 28 giugno 1924, il dottor Morehouse fermò la macchina davanti alla residenza dei Tanner e ne scesero quattro uomini. L'edificio di pietra in ottimo stato di conservazione sorgeva vicino alla città e, a parte la palude che si estendeva alle sue spalle, non aveva nulla di misterioso. L'ingresso di colore bianco immacolato era visibile oltre un prato ben tenuto a qualche distanza dalla strada sottostante e, mentre la piccola comitiva si avvicinò, tutti videro che il pesante portone era spalancato. Soltanto l'uscio interno era chiuso. In prossimità della casa era calato sui quattro un silenzio nervoso perché ciò che vi si annidava poteva essere immaginato solo con un senso di indefinito terrore. La paura, tuttavia, si attenuò quando i visitatori udirono distintamente il ticchettio della macchina da scrivere di Richard Blake. Meno di un'ora prima un uomo adulto era fuggito dalla casa, senza giacca e cappello, urlando ed era crollato davanti all'uscio di un vicino farfugliando incoerentemente «Casa, buio, palude e stanza!». Il dottor Morehouse non aveva avuto bisogno d'altro per agire e si era messo in movimento non appena gli era stato riferito che un individuo folle con la bava alla bocca se l'era data a gambe dall'antica dimora dei Tanner sul limitare della palude. Sapeva che sarebbe successo qualcosa fin da quando i due uomini si erano trasferiti nell'edificio maledetto. Ora uno di essi era fuggito. L'altro, il suo padrone, era rimasto solo. Si chiamava Richard Blake, era uno scrittore e poeta di Boston. Partito con la guerra con nervi e sensi allerta, era tornato ridotto nello stato in cui si trovava adesso. Benché semi-paralizzato, Blake era sempre affascinante e in grado di tirare avanti tra visioni e suoni che traeva direttamente dalla propria fantasia, poiché altro non gli era concesso. Era tornato dal fronte cieco, sordo e muto. In quanto artista, aveva gioito delle leggende sovranaturali e degli accenni terrorizzanti che riguardavano la casa e i suoi precedenti inquilini. Le tradizioni misteriose costituivano un prezioso elemento fantastico e nemmeno le sue condizioni fisiche impedivano di goderne. Aveva sorriso delle previsioni fatte dalla gente superstiziosa del posto, ma adesso che il suo unico compagno era fuggito in un parossismo di terrore e che lui stesso era rimasto senza alcun aiuto a fronteggiare ciò che l'aveva provocato, Blake non avrebbe più sorriso né si sarebbe rallegrato tanto. Questo almeno pensava il dottor Morehouse quando aveva affrontato il problema del fuggiasco insieme al proprietario della Magione, che aveva chiesto il suo aiuto per chiarire la faccenda. I Morehouse erano un'antica famiglia di Fenham e il nonno del dottore era stato uno di coloro che avevano bruciato il cadavere dell'eremita Simenon Tanner nel 1819. Nonostante fosse passato tanto tempo, il medico non poter reprimere un brivido al ricordo di quei fatti terribili e delle ingenue illazioni fatte dai contadini a causa di una leggera e insignificante deformità del defunto. Morehouse tuttavia sapeva di essersi turbato per niente, perché lievi protuberanze ossee nella parte anteriore del cranio sono irrilevanti e spesso osservabili in persone calve. Fra i quattro uomini, che alla fine volsero risoluti il passo verso la casa abborrita, durante il tragitto era avvenuto un singolare scambio di confidenze sulle oscure leggende e gli accenni misteriosi tramandati dalle rispettive nonne insieme ad altri pettegolezzi. Leggende e accenni di cui si parlava di rado e che non erano mai stati sistematicamente confrontati. Alcuni risalivano addirittura al 1692, quando un Tanner era stato giustiziato sul Gallows Hill, a Salem, dopo un processo per stregoneria. Ma non si erano intensificati fino al 1747, anno in cui era stata costruita la parte principale della casa. Soltanto un'ala risaliva a tempi più recenti. Tuttavia neanche in seguito le voci erano state troppo frequenti, perché per quanto bizzarri fossero i Tanner, soltanto l'ultimo di loro, il vecchio Simeon, era stato temuto e abborrito. Costui aveva ampliato la casa, ereditata in modo orribile secondo la gente, e aveva fatto morare le finestre della sala a sud-est, la cui parete orientale era prospicente la palude. Era il suo studio biblioteca e aveva una porta a doppio spessore rinforzata da fasce di ferro. Quella terribile notte dell'inverno 1819 si era dovuto abbatterla a colpi di scure, quando dal camino era uscito un fumo nauseabondo e gli uomini del villaggio avevano fatto erduzione in casa e avevano trovato il cadavere di Tanner con un'orrenda espressione sul volto. Era stato a causa di quell'espressione, non delle due protuberanze osse e sotto i folti capelli bianchi, che avevano bruciato il cadavere, i libri e i manoscritti che si trovavano nella stanza. Morehouse e i suoi compagni coprirono il tragitto fino alla dimora dei Tanner, prima di aver avuto il tempo di correlare altri importanti dati storici. Quando il dottore, in testa al gruppetto, aprì l'uscio interno ed entrò nel corridoio dal soffitto a volta, il rumore prodotto dalla macchina da scrivere cessò improvvisamente. Proprio in quel momento due uomini credettero di avvertire un debole soffio d'aglia fredda, stranamente in contrasto con il gran caldo di quel giorno, ma in seguito non ci avrebbero giurato. L'atrio e il corridoio erano in perfetto ordine, come pure le stanze in cui entrarono cercando lo studio dove probabilmente si trovava Blake. Lo scrittore aveva arredato la casa in stile esquisitamente coloniale e, sebbene potesse contare soltanto sull'aiuto di un domestico, era riuscito a tenerla linda e pulita. Il dottor Morehouse guidò gli uomini di stanza in stanza attraverso le porte all'arco spalancate, trovando infine la biblioteca studio che cercava. Una bella sala orientata a sud, al pian terreno, adiacente al temuto studio di Simeon Tanner. Era tapezzata dei libri che il domestico riusciva a leggere gli mediante un ingegnoso alfabeto fondato su piccoli tocchi e degli ingombranti volumi in braille che lo scrittore leggeva da sé con i volpastrelli. Richard Blake, naturalmente, si trovava lì, seduto come sempre davanti alla macchina da scrivere, e un mucchio di fogli appena battuti erano sparsi sul tavolo e sul pavimento, mentre uno era ancora infilato nel rullo. A quanto pare aveva interrotto il lavoro all'improvviso, forse a causa di un brivido freddo che l'aveva indotto a chiudere il collo della vestaglia. La testa era girata verso la stanza adiacente soleggiata, in atteggiamento alquanto strano per una persona che, essendo cieca e sorda, era completamente tagliata fuori dal mondo esterno. Quando ebbe attraversato la stanza e poteva vederlo in viso, il dottor Morehouse sbiancò e fece cenno agli altri di stare indietro. Aveva bisogno di qualche istante per riprendersi e per rendersi conto che effettivamente non si trattava di una mostruosa illusione. Ormai non doveva più chiedersi perché avessero bruciato il cadavere di Simeon Tanner in quella notte d'inverno a causa dell'espressione del volto. Anche lui si trovava al cospetto di uno spettacolo che solo una mente ben salda poteva affrontare. Il defunto Richard Blake, la cui macchina da scrivere aveva ticchettato come se nulla fosse fino a quando gli uomini erano entrati in casa, aveva visto qualcosa pur essendo cieco e ne era rimasto sconvolto. L'espressione del volto non aveva più nulla di umano né quella dei grandi occhi azzurri iniettati di sangue e chiusi da sei anni alle immagini di questo mondo. Nella vitrea fissità delle pupille brillava ancora una visione spaventosa. In mote fissavano la porta aperta del vecchio studio di Simeon Tanner, dove il sole splendeva sulle pareti, un tempo immerse nelle tenebre a causa delle finestre murate. E il dottor Carlo Morehouse vacillò, incredulo, quando si accorse che a dispetto dell'abbagliante luce del giorno, le pupille colori inchiostro erano dilatate in modo incredibile, come quelle di un gatto, nell'oscurità. Il medico chiuse gli occhi ciechi prima che gli altri vedessero il volto del cadavere, poi esaminò con cura febbrile e con scrupolosa diligenza professionale il corpo senza vita, benché avesse i nervi sconvolti e le mani tremanti. Di quando in quando comunicava ai tre compagni spaventati e incuriositi alcuni risultati dell'esame, ma altri giudiziosamente li tenne per sé, perché non dessero la stura a congetture più inquietanti di quanto umanamente consentito. Non fu dunque dalle parole del medico, ma dalla propria per spicace osservazione, che uno dei tre uomini fu indotto a borbottare qualcosa sui capelli scarmigliati del morto e i fogli sparpagliati in giro. L'uomo disse che era come se un forte vento avesse soffiato attraverso la porta verso la quale era rivolta la testa del cadavere, ma anche se le finestre un tempo murate erano aperte alla calda aria di giugno, durante tutto il giorno non era aspirato un alito di vento. Un altro uomo aveva cominciato a raccogliere i fogli del dattilo scritto sparsi sul tavolo e sul pavimento, ma il dottor Morehouse lo fermò con un gesto allarmato. Aveva visto il foglio rimasto nel rullo della macchina da scrivere e lo sfilò subito, mettendoselo in tasca, dopo che una o due frasi scorse frettolosamente, lo avevano fatto impallidire di nuovo. Fu lui a raccogliere i fogli e a infilarseli in tasca alla rinfusa senza perder tempo a metterli in ordine. Ma neanche quello che aveva letto lo spaventò quanto il particolare che notò in quel momento, la sottile differenza nel tocco e nella pesantezza delle battute che distinguevano i fogli appena raccolti da quello trovato nella macchina da scrivere. E non riuscì a separare quella sgradevole impressione da un altro orrendo particolare che cercò accuratamente di nascondere agli uomini che avevano udito il tichettio della macchina da scrivere meno di dieci minuti prima. Una cosa terribile, la cui tentava di proteggere anche la sua mente, almeno finché non fosse rimasto solo e avesse avuto la possibilità di rilassarsi nel comodo abbraccio di una poltrona Morris. In più di trent'anni di pratica professionale non gli era mai venuto in mente che un medico legale potesse nascondere un fatto. Eppure nel corso delle deformità che seguirono nessuno seppe mai che quando aveva esaminato il corpo del cieco dagli occhi sbarrati e l'espressione stravolta aveva notato immediatamente che la morte doveva risalire ad almeno mezz'ora prima della scoperta del cadavere. Il dottor Morehouse chiuse la porta d'ingresso esterna e guidò il gruppetto in ogni angolo della vecchia casa cercando indizi che gettassero luce sulla tragedia. La ricognizione dell'edificio non approdò a nulla. Morehouse sapeva che la botola del vecchio Simeon Tanner era stata rimossa non appena i libri e il cadavere del recluso erano stati bruciati e che il sotterraneo e la tortuosa galleria sotto la palude erano stati riempiti appena scoperti 35 anni più tardi. Ora si rese conto che nulla di anormale aveva preso il loro posto e che la casa presentava i segni di un moderno restauro ed un sobrio buon gusto ma niente altro. Dopo aver telefonato allo sceriffo di Felham e al medico legale della contea a Baiboro il dottore ne attese l'arrivo. Una volta giunto lo sceriffo insistette perché due degli accompagnatori di Morehouse prestassero giuramento e svolgessero il ruolo di suoi assistenti fino all'arrivo dell'altro medico. Il dottor Morehouse prevedendo la confusione e le inutili discussioni che la presenza dei due funzionali avrebbero scatenato di fronte al fatto inesplicabile non potete ottenere un sorriso amaro e se ne andò con il proprietario della casa dove aveva trovato rifugio il domestico fuggito. Quest'ultimo era debole ma cosciente e quasi del tutto in sé. Morehouse aveva promesso allo sceriffo di comunicargli tutte le informazioni ottenute dal domestico per cui cominciò a interrogarlo con calma e tatto. L'altro reagì con buon senso e con postezza ma la perdita di memoria di cui soffriva eluse le domande del medico. Probabilmente la tranquillità del disgraziato era conseguenza della pietosa incapacità di ricordare perché tutto quello che pote dirgli fu che si trovava nello studio con il suo padrone quando improvvisamente gli era parso che la stanza vicina si oscurasse. La stanza in cui la luce del sole aveva sostituito da più di cent'anni il buio delle finestre murate. Quel semplice ricordo di cui peraltro non era sicuro mise a dura prova i nervi scossi del paziente e fu con la più grande gentilezza e il massimo tatto che il dottor Morehouse lo informò della morte del suo padrone. Le cause, disse, erano più che naturali. Un attacco cardiaco provocato dalle terribili ferite di guerra. Il domestico ne fu addolorato perché era sinceramente devoto allo scrittore invalido ma promise di mostrarsi forte e di riportare il cadavere alla famiglia a Boston non appena conclusasi l'inchiesta del coroner. Dopo aver soddisfatto nel modo più vago possibile la curiosità del padrone di casa e della moglie, Morehouse insistette perché ospitassero il domestico e lo tenessero lontano dalla dimora dei Tanner finché non fosse ripartito con il cadavere. Quindi tornò a casa in auto in preda a una crescente agitazione. Finalmente era libero di leggere il manoscritto del morto e di trovare almeno un indizio della cosa infernale che aveva sfidato i sensi devastati della vittima insinuandosi con orrendi risultati in una mente prigioniera delle tenebre e del silenzio eterni. Sapeva che sarebbe stata una lettura terribile e non aveva fretta di cominciarla. Parcheggiò di proposito l'auto in garage, si mise comoda in vestaglia e dopo aver sistemato un tavolinetto coi sedativi e tonici accanto alla poltrona, si accomodò. Perse ancora un po' di tempo riordinando i fogli numerati, ma nel far questo stette attento a non leggere qualche frase a caso. È ormai noto l'effetto che la lettura del testo produsse sul dottor Morehouse. Nessun altro l'avrebbe mai letto se sua moglie, un'ora più tardi, non avesse raccolto i fogli mentre lui giaceva svenuto sulla poltrona. Un dottore respirava pesantemente e non di i colpi bussati alla porta con tanta forza da risvegliare una mummia. Per spaventoso che sia, il documento, specie per ciò che riguarda l'ovvio cambiamento di stile dell'ultima parte, non possiamo fare a meno di credere che esso, agli occhi del medico versato nel folclore, celasse ulteriori, supremi orrori, di cui nessun altro avrà la sfortuna di venire a conoscenza. Certo, a Fenham è opinione comune che l'antica familiarità di Morehouse, con le chiacchiere dei vecchi e con le leggende raccontategli dal nonno, quando era ragazzo, gli fornissero informazioni particolari, alla luce delle quali l'abominevole resoconto di Richard Black acquistava un significato nuovo, inequivocabile e devastante, ma soprattutto intollerabile per la mente di un uomo normale. Tutto ciò spiegherebbe la lentezza con cui il dottore si riebbe in quella sera di giugno e la riluttanza con cui permise alla moglie e al figlio di leggere il dattilo scritto, nonché la singolare ritrosia con cui acconsentì alla loro decisione di non bruciare un documento tanto spaventoso, ma spiegherebbe soprattutto la misteriosa fretta con cui acquistò la vecchia casa dei Tanner e la strusse con la dinamite facendo tagliare gli alberi della palude fino a notevole distanza dalla strada. Per quanto riguarda queste misure, il dottore si dimostra inflessibile e reticente ed è sicuro che quando morirà porterà con sé nella tomba un segreto che meglio il mondo non conosca. Intanto lo scritto qui riprodotto è stato copiato grazie alla gentilezza del signor Floyd Morehouse, figlio del dottore. Alcune omissioni indicate da Asterischi sono state effettuate nell'interesse della serenità di spirito del lettore, altre invece sono causate dall'incomprensibilità di alcuni passaggi del testo, là dove la parossistica dattilografia dello scrittore rasenta l'incoerenza o l'ambiguità. In tre occasioni dove le lacune erano ricostruibili in base al testo si è cercato di farlo. Del cambiamento di stile nell'ultima parte è meglio non dir nulla. Pare abbastanza plausibile attribuire questo particolare, sia per ciò che riguarda il contenuto sia per l'aspetto della battitura, alla mente devastata e vacillante della vittima, le cui precedenti menomazioni si sarebbero dimostrate ben piccola cosa di fronte a quello che lo aspettava. Menti più coraggiose sono libere di trarre le loro conclusioni. Ecco dunque il documento scritto in una casa maledetta da un uomo tagliato fuori dalla visione e dai suoni del mondo. Un uomo rimasto solo e indifeso alla merce di forze che nessun vedente e udente ha mai osato affrontare. Poiché il documento contraddice tutto ciò che sappiamo dell'universo grazie alla chimica, alla fisica e alla biologia, la mente razionale lo considererà alla stregua di un singolare parto della follia, follia trasmessa contagiosamente all'uomo che scappò in tempo da quelle mura. E finché il dottor Arlo Morehouse rimarrà chiuso nel suo silenzio, tale opportunamente dovremo considerarlo. Il dottilo scritto. Quel che vagamente presagivo in quell'ultimo quarto d'ora si sta concretizzando in paure ben definite. Prima di tutto ho la certezza che a Dobs sia capitato qualcosa. Da quando è al mio servizio per la prima volta non ha risposto alle mie chiamate. Dal momento che non veniva, dopo aver suonato ripetutamente il campanello, ho pensato che si fosse rotto. Ma poi ho cominciato a picchiare sul tavolo con una forza che riporterebbe in vita una vittima di Caronte. All'inizio ho concetturato che fosse uscito un attimo per rinfrescarsi, data la mattinata torrida e asfissiante. Però non è da Dobs allontanarsi così a lungo senza prima chiedermi se ho bisogno di qualcosa. Gli avvenimenti di questi ultimi minuti purtroppo confermano il mio sospetto che la sua assenza non sia volontaria. Questo insieme di fattori mi suggerisce di trascrivere le mie sensazioni e le mie ipotesi, sperando che tale espediente dissipi questo cupo presentimento di catastrofe. Nonostante ci provi, non mi riesce di non pensare a tutte le storie legate a questa casa. Chiacchiere nate dalla superstizione di gente ignorante e che non mi passerebbero per la mente neanche per un minuto, se Dobs fosse qui con me. Durante questi lunghi anni vissuti come un recluso, Dobs è stato il mio sesto senso. In questo momento per la prima volta da quando sono menomato ho piena coscienza del mio stato di impotenza. Dobs sostituiva i miei occhi insensibili, le mie orecchie sorde, la mia gola muta, le mie gambe inarti. Sul tavolo c'è un bicchiere con l'acqua. Se Dobs non sarà qui a riempirlo di nuovo, quando avrò bevuto, seguirò lo stesso destino di tantalo. Da quando ci siamo trasferiti a vivere qui, le persone che sono venute in questa casa si contano sulla punta delle dita. Cosa accomuna dei charlieri campagnoli ed un invalido che non vede, non sente e non parla. Passeranno dei giorni probabilmente prima che venga qualcun altro. Solo con l'unica compagnia delle mie paure, acuita inoltre dalle impressioni avute in questi ultimi minuti. Impressioni che trovo inquietanti, che sono capaci di trasformare delle sciocche dicerie di campagna in fantasie immaginarie tali da suggestionarmi come mai era accaduto. Ho l'impressione che siano trascorse ore, da quando ho cominciato a trascrivere le mie emozioni, ed invece so che sono passati solo pochi minuti, visto che ho appena inserito un foglio bianco nel rullo della macchina. Questo gesto meccanico di infilare un nuovo foglio, per quanto breve, mi ha riscosso. Spero di liberarmi da questa opprimente sensazione di incombente minaccia, almeno quel tanto che mi consenta di descrivere ciò che si è già verificato. Inizialmente si è trattato solo di un tremore, come quello che può avere un edificio mai costruito al passaggio di un pesante camion vicino al marciapiede, ma questa casa è ben salda sulle fondamenta. Forse ho una sensibilità eccessiva, e forse corro troppo con la fantasia, ma ho avuto la netta sensazione che il tremore fosse più forte proprio davanti a me, e la mia sedia è rivoltata verso sud-est, ossia dalla parte opposta della strada, in linea esatta con la palude a ridosso della casa. Probabilmente sarà stata un'illusione, ma quello che è successo dopo è inconfutabile. Mi ha fatto ripensare a quegli attimi in cui lo scoppio delle granate ti faceva tremare il terreno sotto i piedi, o ai momenti in cui i navi intere esplodevano in aria, come paglia sotto l'inforiale di un tifone. L'edificio era squassato come tizioni di Durgar passati ai setacci di Nifilheim. Le tavole del pavimento tremavano sotto i miei piedi come se avessero paura. La macchina da scrivere traballava sul tavolo, e ho immaginato che i tasti saltassero terrorizzati. È finito tutto in un secondo. Adesso è di nuovo tutto calmo, troppo calmo. È incredibile che dopo un fatto del genere possa tornare tutto esattamente com'era. No, esattamente no. Sono sicuro che sia successo qualcosa a Dobbs. E tale convinzione, unita a questa quietea normale, accresce ai miei presagi. Presagi. Sì. Io ho paura. Mi sforzo di essere razionale. Cerco di convincere me stesso che non c'è nulla da temere. La mia poesia ha ricevuto critiche sia positive che negative per quello che definisco una fervida immaginazione. In questo frangente mi trovo perfettamente d'accordo con i critici che la giudicano troppo forte. Non c'è nulla di più importuno del fumo. È solo una piccola esalazione sul furia, ma le mie narici ipersensibili le avvertono lo stesso. Ma è cosa minima che non riesco a stabilire se venga da qualche parte della casa o non entri invece dalla finestra dell'altra stanza, quella che si affaccia sulle palude. Sta diventando sempre più forte. Ora sono sicuro che non proviene da fuori. Frammenti del passato, tetre visioni di altri giorni scoppiano nel mio cervello ad una velocità caleidoscopica. Uno stabilimento che brucia. Grida frenetiche di donne impazzite dal terrore, imprigionate tra pareti di fuoco. Una scuola in fiamme. Urli angoscianti di bambini intrappolati dal crollo di una scala. Un teatro che va a fuoco. Una folla isterica di gente che cerca di salvarsi dal pavimento incendiato. E poi nuvola e nuvole fittissime di fumo oscuro come la pece, tossico, acido, che infetta il cielo limpido. La stanza si sta riempiendo di zaffate intense, violente, soffocanti. Mi aspetto di sentire da un momento all'altro delle fiammate brucianti lambire le mie gambe in armi. Il fumo mi ferisce gli occhi e le orecchie vibrano impazzite. Sono soffocato. Tossisco per far uscire dai polmoni quei vapori velenosi. È un fumo caustico, tossico, malevolo, maleodorante di carne bruciata. Eccomi nuovamente solo. E non acquietta il naturale. Un venticello leggero che mi accarezza il viso mi restituisce il coraggio. È ovvio che la casa non sta andando a fiamme, visto che è scomparsa ogni traccia di quel fuoco violento. Non ne avverto il minimo odore, per quanto fiuti l'aria come un segugio. Inizio a domandarmi se sono impazzito. Se tutti questi anni di isolamento non mi abbiano sconvolto il cervello, ma quello che è successo era troppo palpabile per poterlo ritenere un'allucinazione. Sano o malato di mente, sono costretto a considerare il fatto una realtà. E nel momento in cui lo considero tale, non posso riconoscere che una conclusione logica, una conclusione che basta già di per sé a farmi impazzire. Prenderla per buona significa accettare la veridicità delle storie superstiziose che circolano tra i paesani, che DOPS ha raccolto e trascritto in braille per me. Storie assurde, che la mia mente razionale rifiuta istintivamente, bollandole come idiozie. Come vorrei che questo battito nelle orecchie cessasse. Ho la sensazione che nel mio cranio vi siano dei suonatori di tamburo fantasma che mi percuotono i timpani all'unisono. Presumo che sia una semplice conseguenza della sensazione di soffocamento che ho appena sperimentato. Qualche bel respiro di questa rietta rifrigerante e... Qualcuno è entrato nella stanza. Sono sicuro di percepire la sua presenza, come se potessi vederla. È la medaggima sensazione che provavo quando mi facevo largo a gomitate tra la calca e mi sentivo osservato da due occhi, dallo sguardo talmente magnetico da attrarre inconsciamente la mia attenzione. La sensazione è identica ma amplificata centinaia di volte. Chi, che cosa può essere? I miei timori, in fin dei conti, potrebbero essere ingiustificati. Potrebbe essere semplicemente Dobs che è tornato. No, non è Dobs. Come presagivo il battito dentro le orecchie si è fermato ed ora percepisco una specie di sussurri. Qualcosa che mi bisbiglia. Il significato sconvolgente di questo fatto si è appena impresso nel mio cervello. Riesco a sentire. Non ho un'unica voce ma molte. Il famelico brusio di ributtanti tafani, l'infernale ronzio di voraci api, il sibilo di repellenti rettili, una cacofonia di sussurri che nessuna gola umana saprebbe produrre. Sta salendo. Per la stanza si ode un canto diabolico, gracchiante e stonato, insopportabile. Un coro infernale che intona lagne blasfeme. Lamenti di dolore abissale, cantile nati da anime dannate. L'orrendo fracasso di una sarbanda di finimondo pagano. Le voci che mormorano intorno alla mia sedia si fanno più vicine. Il canto è cessato. Improvvisamente l'infernale frastuono si è abbassato, smorzandosi in suoni incomprensibili. Cerco spasmodicamente di capire. Le parole si avvicinano. Sono sempre più vicine. Ora sono riconoscibili. Troppo riconoscibili. Dio, come vorrei che le mie orecchie fossero rimaste chiusi per sempre, anziché aprirsi per dover ascoltare le loro maledette parole. Rivelazioni di osceni baccanali da far rabbrividire l'anima. Disgustosi saturnali di una sfrenatezza folle. Degradazioni corrotte delle orge dei cabiri. Orri di minacce di sofferenza impensabili. Freddo. Non è possibile in questa stagione. Il vento che fino a poco fa soffiava dolcemente adesso ulula, rabbioso, vicino alle mie orecchie. Un vento glaciale che mi investe dalla palude e mi ghiaccia le ossa. Se Dobs mi ha abbandonato, non mi sento di condannarlo. Di solito non tollero la viltà e la paura incontrollata, ma questo... gli auguro di essere riuscito a fuggire in tempo. Si è risolto anche il mio ultimo dubbio. Ora sono doppiamente contento di aver cominciato a registrare le mie impressioni, per quanto non spero che qualcuno possa capire o credermi. Scrivendo sono riuscito ad alleviare l'insopportabile tensione di ogni nuova attesa impotente, del verificarsi di ulteriori manifestazioni innaturali. Ritengo che esistano per me soltanto tre possibilità. Scappare da questo posto infernale e trascorrere i torturanti anni a venire cercando di dimenticare. Ma io non posso fuggire, passare dalla parte di forze talmente malvagie da far apparire il tartaro a un paradiso celestiale. Ma non intendo farlo. Morire. Preferisco che mi facciano a pezzi, piuttosto che dannare la mia anima immortale stipulando un accordo con gli inviati di Belial. Sono costretto a interrompermi perché ho le dita intorpidite. Questa stanza gelida, come una tomba. Mi sto lentamente indebolendo. Devo reagire a questo languore che potrebbe compromettere la mia risoluzione di morire piuttosto che scendere a patti con loro. Giuro di nuovo che combatterò fino alla fine. Una fine che ormai è prossima, lo so. Il vento è sempre più gelido, se davvero possibile. Porta con sé la putreddine di cose morte vive. Grazie, signore, di avermi tolto misericordiosamente la vista. Il vento è talmente glaciale che brucia in sé che ghiacciare. Mi sta quasi scottando. Sono stato ghermito da mani invisibili, mani spettrali, i cui toccano una forza fisica. Cercano di staccarmi dalla macchina da scrivere. Mani gelate che vogliono spingermi in un gorgo infernale. Mani mefistofeliche che mi trascinano verso l'abisso del male eterno. Mani micidiali che mi soffocano e tormentano i miei occhi ciechi. Dita di un gelo polare mi stanno premendo le tempie. Sono rigide e ossute, come corna. L'alito glaciale di qualcosa di morto da secoli mi sfiora le labbra febbricitanti e mi brucia la gola arsa da un fuoco di ghiaccio. L'oscurità mi avvolge e non è il buio dei miei occhi ciechi, no. Sono le tenebre insondabili della notte del peccato, le nere tenebre del purgatorio. Io vedo, spesmea Christus, è la fine. Alla mente mortale non è dato resistere ad una forza che travalica l'immaginazione umana. All'anima immortale non è dato sconfiggere ciò che ha conosciuto l'abisso e ha fatto dell'immortalità un attimo passeggero. La fine, no, non è che l'inizio misericordioso. Grazie. Grazie.